Andiamo subito all'immagine, è un'immagine cruenta, molto forte, però è quello che ci troviamo di fronte, non dico tutte le settimane, ma quasi a Bolzano. Ci sono stati diversi esempi da parte del dottor Baumgartner, dell'avvocato Micozzi, di altri relatori, riferiti a casi magari a Torino, New York, all'estero, in Inghilterra. Questi sono casi locali, questa è un'immagine che purtroppo vediamo tutti i giorni, la madre del ragazzino di cui il collega ha parlato poc'anzi, è venuta da noi perché ha trovato sul telefonino del figlio immagini di questo tipo. Questo è l'avambraccio ed è un trend, usiamo un termine magari anglosassero, è una tendenza che ultimamente è sempre più frequente. Questo è un sintomo chiaro, io parto dalla fine e non dall'inizio, abbiamo parlato cos'è il cyberbullismo, cos'è il bullismo, noi vediamo le conseguenze. Cioè noi troviamo i ragazzi tutte le settimane, ragazzi e ragazzine che arrivano da noi in ufficio poi accompagnati dai genitori con questo tipo di manifestazioni. Possiamo anche toglierla perché magari facendo anche caldo così non è un'immagine delle migliori. Ecco, questo per renderci conto poi qual è l'effetto pratico del bullismo, se di effetto pratico si può parlare, sui ragazzi, sugli adolescenti. Ma anche sugli adulti perché non dimentichiamoci che vittima dei bulli sono ragazzini, adolescenti, ma sono purtroppo anche dei ragazzini come noi li chiamiamo borderline, ovvero al limite della maggior età. Quindi non sono più bambini, è gente che sta entrando nel mondo adulto, che magari lavora già o va a scuola o va addirittura all'università. Poi volevo darvi un altro dato, ed è quello che il trend è anche in discesa purtroppo. Cioè noi troviamo dei bambini anche in quarta, quinta elementare con questo tipo di manifestazioni. Una statistica diciamo ufficiale non ve la possiamo fornire, però ultimamente siamo sempre più presenti nelle Grundschulen, cioè nelle scuole elementari dell'Alto Adige, perché veniamo chiamati settimanalmente dai direttori o dai docenti per andare a fare un intervento immediato. E adesso volevo soffermarmi un po' sul nostro protocollo di intervento, come funziona. Qui abbiamo parlato dell'impianto diciamo normativo, abbiamo parlato degli strumenti che la legge e la magistratura poi mette a disposizione di noi forze dell'ordine. Però non è sempre così facile, nel senso che noi siamo, per usare un termine mutuato dall'ambiente militare, noi siamo al fronte, cioè noi abbiamo a che fare con i ragazzini nell'immediatezza dei fatti. E quindi grazie all'ausilio che la Procura della Repubblica, la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori ci fornisce, possiamo intervenire immediatamente. Quindi quando arriva da noi, giunge una chiamata di aiuto, e uso questa parola proprio in modo cosciente, di aiuto, ci precipitiamo immediatamente. Ai ragazzini diciamo che siamo alla volante in internet e di fatto è così. Quando ci sono manifestazioni molto gravi, noi arriviamo a sirene spiegate. Ultimamente siamo andati in due, appunto, ripeto, in due scuole elementari, per dei fatti molto molto gravi. Chiaramente entriamo in classe perché cerchiamo di risolvere il problema, diciamo, all'origine. Una volta che si arriva ad avere una comunicazione di notizia di reato, che interviene l'avvocato, che intervengono i magistrati, siamo già, diciamo, nella fase quasi esecutiva. Mentre noi dobbiamo intervenire prima. Perché? Perché i bambini sono veramente piccoli. Adesso parlare di cyberbullismo in una quinta elementare, voi capite che tutti i soggetti non sono nemmeno imputabili. Perché sapete molto meglio di me che la soglia è fissata a un'età diversa. Si parla dei 14 anni in su. E quindi anche rivolgerci a un magistrato in quel momento, dal punto di vista giuridico, è difficile. Fortunatamente con la Procura della Repubblica di Bolzano abbiamo un'intesa ottimale. E quindi la dottoressa Fava, che è il procuratore capo della Procura dei Minori, ci ha dato la facoltà di andare immediatamente nelle scuole per vedere cosa sta accadendo. Successivamente facciamo sempre una comunicazione, magari non è una comunicazione di notizie di reato, ma una comunicazione va data comunque. I due casi che abbiamo trattato ultimamente sono appunto bambini di 5 anni, scusate, di quinta elementare, quindi si parla di 9, 10 anni, 11 anni per i ripetenti. Il dato clamoroso, a mio avviso, a mio personale avviso, è che quando chiediamo e facciamo una frase tipica di polizia, perché ai bambini piace anche vederci in uniforme, anche in questo consesso oggi siamo venuti in divisa per far vedere chi rappresentiamo, che siamo i rappresentanti dello Stato in questo momento. Per i bambini è molto importante vedere il poliziotto in classe, un po' per una forma di rispetto, un po' per una capacità di associare l'individuo all'istituzione. Quindi usiamo una frase tipica, diciamo sempre in tedesco perché, e qui faccio un piccolo excursus, il dato che vi posso dare certo è che siamo andati 84 volte nelle scuole l'anno scorso, quindi abbiamo fatto 84 interventi in lingua tedesca, solo in lingua tedesca. Con gli interventi in lingua italiana andiamo oltre il centinaio di interventi nelle scuole. Voi fate un semplice calcolo mentale, diciamo, è come se fossimo presenti tutti i giorni in una classe, nei vari istituti di istruzione di ogni ordine e grado. Quindi entriamo in classe e diciamo semplicemente hande hoch, mani in alto. In che senso diciamo ai bambini hande hoch? Alzate le mani o alzino la mano coloro i quali non hanno uno smartphone. Voi sapete tutti cos'è uno smartphone, quindi è un apparecchio telefonico e non solo, è un computer sostanzialmente che permette il collegamento dati. Ebbene, i bambini di una classe, facciamo una media di 15 scolari, almeno 11 sono in possesso di uno smartphone con collegamento dati. Quinta elementare. Quindi è come dare ai bambini un'arma in mano sostanzialmente, perché se non c'è filtro, se non c'è controllo, poi succede di tutto. E infatti succede di tutto. Anche qui la riflessione che facciamo noi. Prima di intervenire con i ragazzini bisognerebbe fare degli interventi con, voi siete operatori del diritto e quindi non c'è problema, ma bisognerebbe intervenire sui genitori. Molti di voi, o la gran parte di voi, sono anche genitori, e quindi una riflessione andrebbe fatta. Com'è possibile che un ragazzino di 9 o 10 anni possiede già uno smartphone e lo utilizza senza filtri? Addirittura tanti ragazzini, una parte di quelli che intervistiamo noi, se di intervista si può parlare, ci riferiscono di avere una password personale. E quindi né la madre, né il padre, né il tutore, o chi esercita insomma quella che una volta si chiamava la patria potestà, e la responsabilità genitoriale sostanzialmente è escluso. È escluso dall'utilizzo dello smartphone del bambino. Per noi è una cosa inconcepibile, cerchiamo di fare prevenzione, ma più che a livello preventivo purtroppo non possiamo fare nulla se non poi trovarci di fronte a delle immagini come avete visto prima. Questa invece è una situazione comunicativa, classica, altoatesina. Io ci tendo sempre a sottolineare il riferimento al nostro territorio perché altrimenti parliamo di concetti che sembrano molto lontani. Qua chi parla il dialetto altoatesino la può leggere. Noi abbiamo per comprensione collettiva aggiunto una traduzione in lingua italiana. E quindi vedete, questo si tratta, è una chat tipica di otto mesi fa che adesso abbiamo acquisito. Adesso il dottor Banguarta non me ne voglia, ma non c'è ancora un'indagine in corso. Quindi la utilizziamo e non parliamo comunque del soggetto che è oggetto di indagine nostra. Si tratta di una ragazzina, però attenzione, è indistintamente, noi vediamo a livello statistico, non si parla di ragazzino e ragazzini, sono colpiti entrambi i sessi allo stesso modo. E qui vedete, potete leggerlo da solo, non ve lo leggo, non ve lo riassumo, il tipo di messaggi, cioè il tipo di frasi. Dove è stato fatto? Su Ask, è il famoso portale di cui parlava il collega prima. Fortunatamente Ask ci fornisce l'indirizzo IP e quindi con le immagini nostre tecniche e con il decreto della magistratura riusciamo poi a capire chi sta dietro questo indirizzo IP. Ma non sempre, perché come voi sapete con gli indirizzi IP non sempre si risolve il problema. Non è detto che gente particolarmente scaltra usi il proprio indirizzo IP o scriva da un apparato che potremmo poi attribuire a un'identità certa. Basta che uno si trovi in un internet point o passi attraverso un hotspot magari di qualche istituto bancario o del comune e l'indagine si fa già molto più difficile. Ecco, questo è un caso classico. Noi abbiamo avuto due casi particolari, quindi vi parlo di queste cose per alleggerire un attimino il mio intervento, perché abbiamo sentito prima le cose già più importanti. Abbiamo avuto due casi di ragazzini. Uno in particolare è stato aggredito, veramente aggredito, verbalmente e con un'insistenza molto incisiva nella sfera privata per via dell'appartenenza ad una religione che qui da noi viene praticata non in modo massiccio, ovvero era di fede ebraica, è di fede ebraica questo ragazzino. E quindi i commenti dei compagni di scuola e dei compagni di classe sono stati, secondo noi, molto terribili da un certo punto di vista, perché abbiamo anche visto che i ragazzini parlano di cose di cui non sono a conoscenza. E li davano proprio dello sporco ebreo, cito testualmente. Dovrebbero riaprire i forni, domani ti mettiamo nei forni e uscirai di nuovo cenere, con te mettiamo dentro tua nonna e tuo padre. Questa cosa è andata avanti per mesi, finché il ragazzino è stato costretto a cambiare istituto scolastico, è andato in un altro istituto scolastico e lì la cosa purtroppo non è cessata. Perché? Perché i social network entrano dappertutto, cioè hanno un modo di dispersione che è incredibile, è come l'acqua, è come l'acqua che si insidia nel terreno. Quindi ogni poro, ogni anfratto libero accoglie questo tipo di insulti, di atteggiamenti. Ha cambiato istituto scolastico, è andato in un'altra scuola e lì è stato fatto oggetto di nuovo di insulti, di minacce, però molto gravi. Abbiamo scoperto chi erano i ragazzini perché scrivevano soprattutto via WhatsApp, tutti di voi sapranno cosa è WhatsApp. Un altro dato che inserisco immediatamente è che i ragazzini stanno abbandonando WhatsApp e si stanno dirigendo piuttosto verso Snapchat, non stanno facendo nessun tipo di pubblicità. Snapchat per chi non lo conoscesse è lo stesso tipo di applicazione di WhatsApp, ha come simbolino un piccolo fantasmino giallo, quindi chi ha figli in età adolescenziale o per adolescenziale vada a fare una perquisizione al telefonino e vada a vedere se hanno questo fantasmino installato. Cos'ha di particolare questa applicazione? È che i messaggi si dissolvono dopo un determinato periodo di tempo, quindi i messaggi, i video, le foto spariscono. Per noi diventa molto difficile dal punto di vista investigativo perché poi se il magistrato ci chiede di raccogliere eventuali elementi di prova è difficile, a meno che il ragazzino che è colpito da questo tipo di insulto o di minaccia non faccia uno screenshot, non si salvi, non faccia un paio di immagini del suo schermo e le salvi da qualche altra parte, altrimenti il contenuto va perso e per noi c'è poco o più niente da fare. È molto diffuso questo tipo di comunicazione perché rispecchia sostanzialmente la situazione comunicativa tra due parlanti cioè come se io adesso parlo con voi se nessuno mi registra quello che oggi ho detto domani viene parzialmente ricordato se mi va bene tra un mese nessuno si ricorda più quello che è stato detto ma comunque funziona così. Quindi la memoria è affidata alla nostra mente non c'è una memoria artificiale come in altre piattaforme che mantiene per sempre diciamo il contenuto dei messaggi ecco quindi Snapchat poi ci sono altri tipi di social network oppure di piattaforme come diceva il collega Lamberti prima però le più diffuse sono Whatsapp, Snapchat poi abbiamo casi anche in questo caso di ragazzini che vanno molto sulle chat roulette non so, penso che sia un concetto abbastanza conosciuto cosa sono le chat roulette è una condivisione di video, di foto, di chat, di messaggi dove sostanzialmente ci si spoglia anche per ricevere piccole somme di denaro noi abbiamo avuto casi di ragazzini o ragazzine che si spogliano con una disinvoltura pazzesca per 20-30 euro poi arrivano le mamme da noi e dicono ho trovato foto di mia figlia chiaramente o di mio figlio nude sono molto gettonati anche i ragazzi in realtà adolescenziale perché strano ma vero i pedofili e qui creo subito un ponte con la pedofilia online anche se non è proprio il tema di cui stiamo parlando oggi perché lo faccio? perché abbiamo visto che i soggetti o le vittime di cyberbullismo di bullismo tendono a isolarsi tendono a vivere essenzialmente nel mondo virtuale non a caso li chiamano i digital natives cioè i nativi digitali vivono sostanzialmente arco 24 ore su questi social network perché quando non hanno il computer in casa hanno lo smartphone che purtroppo viene usato anche nelle scuole anche in classe continuamente quindi si isolano e isolandosi vanno sempre più alla deriva dove vanno in tutte queste piattaforme dove poi noi ritroviamo sempre più spesso i pedofili cioè adulti con deviazioni sessuali che vanno a caccia di ragazzini o di ragazzine i famosi predatori noi li chiamiamo così perché vanno proprio a ricercare il loro prele e qui vi dico un'ultima cosa poi vi non vi tedio ulteriormente abbiamo avuto dei casi possiamo saltare subito le foto finali anche queste sono di impatto forte ma essendo voi operatori del diritto diciamo siete abituati questa è l'immagine per chi può vederlo di minori diciamo in atteggiamenti sessuali ed è un'immagine che abbiamo fatto abbiamo chiesto l'autorizzazione di poterla autorizzare chiaramente al nostro ministero e alla magistratura perché è materiale già sequestrato già oggetto di sentenza quindi lo usiamo soltanto ed esclusivamente per fini a fini didattici o divulgativi questo è un è un soggiorno sostanzialmente di due soggetti che abbiamo tratto in arresto due anni fa in aula è presente penso anche il legale che li ha difesi ecco però non entriamo adesso nei particolari e avevano i poster come noi abbiamo abitualmente i quadri appesi in casa questi due soggetti maschi fratelli avevano delle foto dei poster dei minori che che trovavano in internet con cui scambiavano foto e video e che avevano in parte anche stoltizzate perché il cyberbullismo potrebbe o contiene delle volte anche delle condotte quasi estorsive no? l'avvocato Micozzi sicuramente potrebbe parlarvene in modo molto più esauriente e dettagliato perché? perché il minore che manda la foto che manda l'immagine di solito poi viene gli viene storto altro materiale quindi il ragazzino che delle volte oggetto di bullismo va su questi portali trova altri personaggi di questo tipo manda una foto poi c'è la richiesta di ulteriore materiale alla fine si innesca un diciamo un circolo diabolico da cui il minore non è più in grado di uscire e crollano crollano fisicamente rendimento scolastico zero in appetenza nelle ragazze spesso e valentieri con le madri con i psicologi che ci aiutano perché tra l'altro la convenzione di Lanzarote è recepita anche dallo Stato italiano che voi conoscete molto meglio di me prevede che adesso noi siamo obbligati a sentire sommare informazioni testimoniali o comunque a fare la classica audizione di minore delegata dal magistrato alla presenza di uno psicologo bene tutti gli atti che adesso compiamo investigativi o di indagine noi li facciamo con l'ausilio di psicologi preparati diciamo esperti della materia e adesso mi ricollego a quello che stavo finendo per dire il ragazzino oggetto di bullismo poi va alla deriva e diventa spesso volentieri vittima di questi predatori ecco come vedete appunto avevano i poster in casa di ragazzini dove andavano a trovarli su ASC fingendosi i minori della stessa età quindi il circuito si chiude secondo noi almeno a livello di esperienza personale ecco questo è un intervento che secondo me è sufficiente perché il resto l'hanno già esaurientemente in modo esemplare detto gli altri relatori quindi io vi ringrazio se avete delle domande ancora potremmo magari rispondere grazie grazie